Buonasera a tutti e bentornata qui nel posto delle parole per raccontare di due incontri che lei avrà a Mirandola dove ci sarà il Festival, Memoria Festival per l'appunto, e lei avrà due appuntamenti dedicati ai giovani lettori, al giovane pubblico, ma non solo ovviamente, per raccontare soprattutto di un nuovo libro, di un altro libro scritto da Guia Risari. Noi ci siamo trovati qui con Guia Risari nel posto delle parole l'ultima volta per un libro La Terra Respira, con le illustrazioni di Alessandro Sanna. Oggi invece ci troviamo per raccontare il nuovo libro Elia il camminatore, che non è nuovo perché mi pare abbia qualche anno, ha già camminato di suo, è già quasi adulto, Elia il camminatore pubblicato da San Paolo con le illustrazioni di Giulia Rossi. Guia Risari, ci fa conoscere Elia che ha questo nome così straordinariamente bello e così ricco di profezia? Elia mi ha fatto pensare, sì è vero un po' al profeta, ma soprattutto alla leggerezza dell'Elio. Lui è leggero nel suo camminare, instancabile e all'instancabile soprattutto ricerca dell'amicizia. Quindi crea una sorta di fiera dell'est coinvolgendo una serie di animali sempre più grossi, che sopportano le sue camminate infinite e alla fine sarà costretto in qualche modo a separarsi da loro per trovare l'amicizia tra pari. Allora, dato che il tema del Memoria Festival è l'imprendibile, in questo senso Elia è l'eroe perfetto, è il camminatore che non sappiamo dove vada, ma non lo sa neanche lui e non conta, e soprattutto quello che è imprendibile è l'amicizia che appare come un tesoro da conquistare dopo tante avventure. E questa amicizia è veramente imprendibile, partendo dall'amicizia che viene raccontata in questo libro, per arrivare alle amicizie di tutti noi, è proprio da considerare imprendibile questa parola? Ma non è imprendibile, ma è un lavoro che non cessa mai di essere, l'amico non va dato come un bene né di consumo né acquisito, e in questo senso è il rinnovarsi continuo dello sforzo di stare insieme, di ascoltarsi, di volersi bene, in questo senso è imprendibile. In una parola cura? Sì, la cura, la cura, esattamente, la cura, l'attenzione quotidiana. Forse il volume che lavorerò con i bambini il giorno 2 esprime in maniera ancora migliore questo concetto dell'imprendibile, perché si chiama il decamerino. E altro non è che un cenacolo di dieci bambini che scappano dalla scuola per raccontarsi le loro storie, storie che hanno inventato loro, che hanno trasformato a modo loro, che hanno tinto delle loro identità nazionali o regionali, e quindi si crea questo cenacolo del racconto. E anche il racconto ha in sé qualche cosa dell'imprendibile. Il racconto comincia, ma virtualmente è infinito, soprattutto se una prospettiva ci rinvia all'altra e non è mai chiusa questo ascolto. Eh sì, non è mai chiuso questo ascolto perché questa è una capacità straordinaria che solo i bambini hanno. Questa mattina noi abbiamo conversato, aprendo la nostra lunga giornata di conversazione insieme con Aldo Becce, e ci diceva proprio che i bambini sanno fare tutto questo perché hanno dalla loro una parola straordinaria, che è la parola poesia. La parola poesia è un po' una parola folle, è una parola che non ha bisogno per certi aspetti nel suo essere il gesto tanto pensata. Certo, la poesia, quella rima va pensata e necessariamente anche tanto. Però questo a noi adulti manca, e quindi questo aspetto poetico i bambini necessariamente devono conservarlo. Eh sì, noi adulti abbiamo scambiato la parola poesia che, come sappiamo tutti, viene proprio dal verbo poesis fare, con un fare meccanico, un fare rutinario, ripetitivo, un fare che tante volte è privo del significato, che rende tutto luccicante e nuovo. E questa poesia invece che con i bambini si può fare, ma io sono convinta anche con gli adulti, le cui stratificazioni di età non li fanno essere mai completamente adulti, ci può portare altrove. Eh sì, ci può portare in questa bellissima parola che abbiamo sentito poco fa, e la parola è altrove, e quindi forse solo attraverso la poesia riusciamo a entrare, a entrare nell'altrove. Guia Risari, vorrei toccare un argomento che a me è molto caro nel senso della divulgazione, dell'incontro col pubblico, vale a dire, lei incontrerà i piccoli spettatori, ma non solo, a Memoria Festival, a Mirandola. Ecco, questo rapporto col pubblico, a parte il fatto che c'è stata la parentesi, ma superiamo questa cosa, e il rapporto col pubblico, col pubblico dei bambini. Ecco, in che modo è formativo per chi racconta? Perché io trovo sempre molto affascinante, negli incontri con i bambini, sì, il comportamento dei bambini, ma mi chiedo sempre che cosa arriverà nel cuore, nella mente, che cosa si sedimenterà in chi è sul palco? Allora, per me questo rapporto è sommamente gratificante, dico sempre che tre quarti del mio lavoro è correre in giro per l'Italia a incontrare il mio pubblico. Allora, perché è gratificante? Innanzitutto, banalmente, nessuno tra i bambini si mette a guardare il telefonino o a fare i casi suoi, siamo tutti in questa dimensione del racconto di cui parlavo prima e che ci prende completamente. Avevo già assistito a una conferenza stampa specifica su questo tema, il bambino è l'unico lettore completo, perché è totalmente nella storia che ascolta, che legge, che decifra. Quindi c'è mente e corpo, non ci sono ironie, non c'è distacco e quindi quello che viene restituito è una gioia immensa, un'immensa meraviglia, una grande scoperta. Io colleziono le domande dei bambini che per me diventano ragioni di vita e sono domande molto profonde, sono domande anche brutalmente personali, ma a cui io rispondo con un'onestà assoluta, perché questo glielo devo, senza giri di parole. E i bambini in questo sembrano davvero colpiti e contenti di essere presi sul serio per la prima volta. Nelle volte mi sembra di essere in realtà a una conferenza quando ascolto quello che i bambini hanno da dirmi e dicono sempre cose intelligenti, anche quando le ridicono tre o quattro volte. E' il segnale che vogliono sentire ancora una volta quella risposta. Eh sì, perché ancora una volta quella risposta, perché a volte bisogna ripetere le cose, ma non perché siano distratti, non siano interessati, ma perché poi nella ripetizione c'è forse una, forse sbaglio dicendo questo, un'appropriazione dell'identità personale e se vogliamo anche qui a risale di un'identità narrativa. Eh certo, certamente. Poi ci sono sfumature che si scoprono, non si ripete mai la stessa cosa nello stesso modo e né la si chiede nello stesso modo. Ma quando dico i bambini fanno domande importanti, i bambini domandano a volte, perché mi è capitato, ma tu sei stata felice da bambina? Sono domande dirette, sono domande senza veli, sono domande che probabilmente anche nascondono dei turbamenti profondi. Quindi in questa fase delicatissima della rielaborazione scritta, grafica o pittorica di un libro, si giocano tante cose. Io ci tenderei a lanciare un piccolo appello in questa sede. i tempi di incontro con i bambini si stanno pericolosamente accorciando. Dieci anni fa, quindici anni fa, erano di due ore. E due ore ci vanno tutte. Farli diventare sempre più brevi, a volte quasi neanche mezz'ora, riduce questo momento collettivo di catarsi. Questo perché succede? Succede perché è un po' come il ritmo di produzione dei libri, si aumenta la quantità un po' a detrimento della capacità di scelta. O forse gli insegnanti o gli organizzatori pensano che i bambini abbiano una soglia di attenzione limitata fino a un certo minutaggio? Ma così in realtà non è perché mi è capitato sempre di avere incontri di due ore nei quali tutto il tempo veniva sfruttato utilmente. Faccio un esempio banale. Dopo una lettura, che cosa si pensa della storia? Ci sono varianti possibili? Voi la fareste terminare così? Proviamo a disegnarne delle parti? Ognuno disegna quello che vuole, disegniamo il finale, ridisegniamo la storia, riraccontiamola. E il tempo in cui ogni bambino presenta il suo disegno agli altri è un tempo importantissimo. Perché il tempo dell'approvazione collettiva, del confronto, è quasi, diventa quasi, per questo parlo di un incontro molto delicato, diventa quasi un laboratorio terapeutico. Non posso dirlo perché non sono psicologa e quindi non è terapeutico, però è sicuramente espressivo. Lo è di fatto. Lo è di fatto. Si lavorano tante cose, le paure, le emozioni più forti, che non si è in grado a volte di verbalizzare. Quello che ha detto poco fa, Guia Risari, spero di non andare a fare una domanda fuori tema. Quando la bambina le ha chiesto, ma tu da bambina sei stata felice? Ecco, la risposta è un atto terapeutico. E forse anche la stessa domanda, soprattutto. Esatto, la stessa domanda, ma la mia risposta è stata franca, come sarà franco il mio modo di dirlo adesso. Le ho risposto che la mia infanzia è stata difficile, però io avevo le storie che costituivano per me come delle armi, delle lance, dei proiettili che mi lanciavano, che mi consentivano di vedere oltre. E quindi queste sono, questo è il mio regalo ai bambini. Quello lo considero il mio regalo ai bambini. Una storia in più fa parte di un immaginario cinturone, non un cinturone sanguinario, un cinturone difensivo, creativo, che consente di vedere le cose da tanti punti di vista e di salvarsi dalla realtà, che ogni tanto è un po' brutale. Guia Risari, il suo nuovo libro in libreria è La nudità, il libro La nudità che male fa, il libro che lei ha tradotto. Allora, La nudità che male fa, sì, è un libro che ho tradotto qualche mese fa. È appena uscito un libro più adatto a un pubblico di ragazzi e adulti, che è Il filo della speranza, che racconta di uno sciopero di un gruppo di ricamatrici in un paesino della Sicilia, che ha portato alla legge, all'approvazione della legge sul lavoro a domicilio, che tuttora è in vigore. Quindi questa è una storia, per esempio, che fa parte di quella memoria collettiva che a volte non c'è e bisogna creare uno spazio di riflessione, anche contro gli stereotipi. Le donne passive, poi le ricamatrici rappresentano un po' l'immagine, il simbolo di questa sottomissione, invece ogni tanto alzano la testa e dicono no. Ricordo ai nostri ascoltatori l'appuntamento con Guia Risari al Festival di Mirandola, Memoria Festival, ricordo il sito per scoprire l'interessantissimo programma memoriafestival.it il primo ottobre con Elia il camminatore e poi il 3 ottobre, spero di non sbagliarmi, con l'incontro dedicato al Decamerino. Ma prima di salutarci, Guia Risari, come sempre, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, in questi giorni ho appena finito di leggere un libro di una poetessa pittrice statunitense che si chiama Mary Ruffell, La mia proprietà privata, edito da NN. Ed è un libro molto particolare, una serie di aforismi, poesie, racconti molto acuti che sono pieni di vita e anche un po' di cinismo, insomma, e quindi ci vuole anche questa pennellata così di cattiveria ogni tanto per poi essere poetici. Chissà se questo libro è a portata di mano. Sì. E allora se è a portata di mano facciamo il gioco che facciamo ogni tanto, lei lo apre a caso, e in quali parole si imbatte, Guia Risari? La libertà è qualcosa di cui nessuno mai dovrebbe vergognarsi. Credo che siano parole che hanno bisogno semplicemente di essere qui proprio fortemente sedimentate. Non bisogna vergognarsi della libertà, però bisogna avere cura, bisogna lavorare la libertà e la democrazia non sono cose che una volta avute si hanno per sempre, si deve lottare ognuno per la propria parte, nessuno escluso. Grazie davvero, Guia Risari e buon festival. Grazie mille, Livio Partiti, il meglio per tutti noi. Arrivederci.